eleron l'azienda cripto e relativo token ha deciso di cambiare nome e avere un rebrand in multiverse hicks concentrandosi principalmente su tre fronti abbiamo hicks fabbriche un modulo block cene dove sarà facile costruire e accedere a tantissime applicazioni a tantissime ed up x portal che sarà un'applicazione decentralizzata molto potente per accedere al metaverse e personalizzare anche i nostri avatar ma non solo una carta cripto un portale dove sarà possibile parlare in temporale una sorta di chat con i vari utenti di multiverse hicks e in ultimo ma non per importanza x wars dove sarà un network per rendere possibile l'interpolarità con i diversi metaversi che sono nati e nasceranno nel tempo ma non ci faremo ma non si ferma qui all'interno di questo ecosistema si possono trovare alte applicazioni servizi proprietari come ad esempio un wallet un exchange un marketplace di nft un launchpad un gateway per permettere a siti attività online di ricevere pagamenti in cripto ogni mancabile bridge per l'interpolarità con altre chain sto alimentato da un token con il ticker e g ld che avrà un rifornimento massimo circolante di 31 milioni 400 unità attualmente con una fornitura pari al 79 per cento di unità sul mercato il token è ovviamente un token utility un token di governance che permette lo staking pagamento delle transazioni dei contratti intelligenti premi per i validatori e tutte le funzionalità che ha un token utility all'interno di un protocollo multiverse x è una blog scene layer one prof state che utilizza lo sharding per offrire un altissima velocità di esecuzione delle transazioni la sua piattaforma che esegue smart conta in grado di appunto di eseguire oltre 15 mila transazioni al secondo con una latenza di circa cinque secondi ad un costo di transazione media di un millesimo di dollaro è stata cofondata nel 2017 nel 2019 ha visto la luce tra 2019 2020 la mainet la rete multivari x viene protetta e viene eseguito utilizzando un algoritmo proof of stake consensus trovate la spiegazione dettagliata di questo algoritmo all'interno della playlist corso e cripto valute del portale raggiungibile all'indirizzo multiverse x puntocom la sezione interessante per chi vuole approfondire la visione futura è quella passata che ha coinvolto eron fino all'evoluzione in multivari x nel novembre 2022 in un evento chiamato xd a parigi trovate tutto il percorso che ha svolto fino ad ora e le novità che ci saranno in future trattate da benjamin che uno dei cofondatori del protocollo block chain erlon attualmente multivari x come ha detto in apertura a video ci sono tantissimi servizi che verranno offerti nel corso di quest'anno quelli che spiccano di più come anticipato sono x fabric che permetterà a sviluppatori di sviluppare la propria block chain in pochi semplici click è comunque a un costo di creazione di sviluppo di sostentamento davvero basso x portal anche qui come anticipato è un portale per il metaverse dove si andrà a gestire a creare incontrare i nostri e altri avatar dove sarà possibile chattare tra i partecipanti di questo metaverse attraverso un social network e utilizzare addirittura anche una carta di debito world è il punto di incontro quello che manca in realtà ancora oggi ovvero l'inter polarità tra i vari metaver esistenti delle varie block chain si definiscono per tutto l'ampio comparto che vanno ad abbracciare la blog cene più avanzata al mondo soprattutto come architettura perché va abbracciare anche the file in effettivo web 3 in modo completo e anche il metaverse l'ecosistema come sempre detto in apertura è composto da tecnologie proprietarie e partner che permettono i pagamenti online per chi decide di utilizzare questo servizio di terza parti passando poi a pagamenti in cripto ultra veloci con la partnership se andiamo a cliccare sopra la feccettina con utrust partnership stretta con e l'on nell'anno passato x money fiat come abbiamo visto prima per accettare pagamenti online e nei propri store a tariffe molto convenienti passando poi all'evoluzione del loro portafoglio wallet che permette l'interazione completa con i token del protocollo e dei protocolli che si uniranno all'interno di multivari x nonché la gestione di dapp e anche nfp abbiamo poi visto in poco tempo fa il lancio dell'exchange un exchange decentralizzato che permette anche di partecipare ai liquidi di pool a utilizzare i servizi di stick in reward e swap di asset x spotlight che è il portale nfp che permette di acquistare vendere esporre le proprie collezioni il launchpad che lì con attimo solo per farmi vedere la schermata che funzionerà la sorta di rebrand e di evoluzione del maya launchpad che permetterà di fare da incubatore per i nuovi progetti che decideranno di lanciarsi su multiverse x x bridges che se è un bridge cross chain come potete vedere permette di brigiare dai tiri o multivari x e viceversa attualmente supporta multivari x e de tirium ma in futuro supporteranno alte block chain sempre all'interno del sito possiamo andare a vedere oltre alla trasformazione che abbiamo visto dell'ex day la roadmap per andare a capire meglio come si evolverà multivari x in futuro e soprattutto anche il lancio di queste applicazioni ad esempio il launchpad verrà lanciato il 16 maggio 2023 andiamo più in sotto vediamo che x fabric verrà lanciato 26 aprile 2023 x money 12 aprile 2023 il 29 marzo uscirà x words 15 marzo multiverse bridge 28 febbraio quindi tra poco ci siamo uscirà x portal 14 febbraio multiverse x wallet quindi l'evoluzione di maier e il 31 gennaio multiverse explorer attualmente questa blog cene prof o stay che conta 3200 validatori è anch'essa carbon neutral quindi uno sguardo al green e conta quasi 68 milioni di transazioni totali numero importante 3200 validatori più e ampio questo numero più vuol dire che una blog cene è decentralizzata in questo caso ha una grande distribuzione vedremo poi nel dettaglio tutti questi servizi magari pubblicherò dei video tutorial per ogni applicativo che stanno implementando nel complesso una blog cene comunque giovane ma che si evolve si adatta al mercato e alle esigenze del mercato basta anche solo andare a vedere le parole che venivano usate nella versione precedente del loro sito dove spiegavano la mission di elrond alle parole che stanno utilizzando quest'oggi molto più in trend rispetto a quelle passate vi direi di tenere nel mirino questo protocollo perché potrà dare ampi spazi alla creatività di sviluppatori e qualora anche alti progetti riuscissero a spostarsi all'interno di questo protocollo se ovviamente lo riterranno conveniente rispetto a tante altre chain anche in token perché no potrà regalare qualche emozione comunque non è un consiglio finanziario questo oramai lo sapete prendetelo nel mirino guardate la sua evoluzione cercate di scoprire più informazioni possibili e mi raccomando ragionate sempre con la vostra testa ciao a tutti